Questo si fa in fasi perché altrimenti in una struttura come questa avremo... La presentazione del progetto della palazzina per le emergenze e urgenze che verrà realizzata dalla Regione Marche nei pressi dell'ospedale Santa Croce ha fornito alla nuova direttrice dell'azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino, Nadia Storti, di essere presente al primo incontro con la stampa fanese e quindi di evidenziare tutti i servizi e tutte le prestazioni che verranno implementate all'interno della nuova costruzione. Quest'ultima verrà realizzata là dove attualmente si trova il parcheggio di via Pizzagalli che consente l'accesso diretto al pronto soccorso. Il parcheggio, con un numero di posti macchina che verrà ampliato, poi verrà realizzato su una superficie di terra attualmente agricola ma che sarà oggetto di variante che si trova nei pressi. La variante rientra in un accordo di programma tra Comune di Fano, Provincia e Regione che è stato approvato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale. Avremo un pronto soccorso in grado di gestire codici rossi e codici anche di minore gravità. Verranno realizzate delle sale visite proprio specifiche per i codici rossi, per i codici gialli, per quelli bianchi e per quelli verdi in modo tale da poter avere un percorso differenziato per rendere più rapido e più snello naturalmente l'accoglienza del paziente. Insieme al pronto soccorso avremo dei posti di osservazione breve e avremo anche dei posti di medicina d'urgenza in corrispondenza dei piani della terapia intensiva. La medicina d'urgenza è molto importante perché ci permette di stabilizzare i pazienti, di rimetterli nei reparti ordinari o se necessario, addirittura, se possibile, di mandarli a casa. Insieme alla fase d'emergenza, che sarà dotata di una struttura radiologica specifica, quindi accelerando i tempi diagnostici con tanto di TAC e di esami radiologici tradizionali, avremo sempre in questa palazzina le sale operatorie. Questo è molto importante perché il paziente che arriva al pronto soccorso a necessità di essere operato immediatamente non entra nel percorso delle sale operatorie ordinarie, ma queste quattro sale, di cui una ibrida, che ci permetterà quindi di fare interventi ancora più complicate, a disposizione della rete dell'emergenza. Oltre a questo avremo i posti di letto di terapia intensiva, sia per pazienti normali che per isolati, e i posti di utic. All'incontro è stato presente anche l'assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli, che ha illustrato l'investimento effettuato dalla giunta regionale. Rispondiamo con i fatti che diceva e che parlava di un depotenziamento della struttura ospedaliera del Santa Croce. Ci stiamo impegnando con grande coraggio e determinazione per ricostruire ciò che altri hanno distrutto, iniziando anche da questo ospedale fondamentale della terza città delle Marche. Oggi qui siamo a dare la notizia dell'investimento di circa 25 milioni di euro sulla nuova palazzina delle emergenze e urgenze, per quattro piani, 1.070 metri a piano. Si parla di un appalto integrato, questo vuol dire che i tempi sono abbastanza brevi? Brevissimi, c'era un cronoprogramma definito dagli uffici, lo abbiamo rispettato, entro i mesi estivi andremo a gara, quindi abbiamo accorciato tutte le tappe, utilizziamo anche le normative del nuovo codice degli appalti per dare entro il 2026 a questa città una palazzina modernissima. Nell'incontro di questa mattina è emersa anche una novità di grande interesse. L'assessore Valdelli ha annunciato infatti che oltre alla realizzazione della palazzina a emergenze e urgenze e all'ospes pediatrico, nell'ospedaletto dei bambini, verrà ristrutturato anche tutto il blocco B, che oggi costituisce la principale porta d'accesso al Santa Croce. È in uno stato non idoneo per quello che è il servizio, quella che è l'attività e la città di Fano, quindi questa è una notizia importante, poi ovviamente deve dialogare anche con il piano sanitario. Spesso si dice che l'ospedale di Fano in questi ultimi anni è stato abbandonato e versa in una condizione non certo ogevole per i pazienti. Lei è di questa idea oppure crede che qualcosa di importante è stato fatto? Beh, Fano è comunque una struttura, un riferimento importante. Ha avuto alti e bassi, c'è stata una fase in cui onestamente va detto c'era stata una riduzione di servizi di attività, poi c'è stata una ripresa, oggi c'è un nuovo percorso, una nuova prospettiva ed è chiaro che sono necessarie nuove risorse, nuovi interventi perché parliamo di due ospedali e per essere due ospedali devono essere una serie di servizi e di strutture. Grazie. Grazie.